Con immenso piacere voglio ringraziare la Gaveca Pallavolo e la Federazione Italiana Pallavolo per aver deciso di devolvere parte dell'incasso di quest'amichevole all'Associazione Giacomo Sintini. L'Associazione Giacomo Sintini è nata per volere mio e della mia famiglia perché avevamo bisogno di ringraziare quelle persone che ci hanno aiutato a venire fuori dalla difficile situazione del cancro. L'Associazione Giacomo Sintini ha un scopo molto semplice, quello di portare un messaggio di speranza a tutte le persone che ogni giorno devono lottare contro il cancro e quello di raccogliere fondi per poter portare aiuti concreti a quelle persone che ogni giorno vivono una situazione difficile a causa del cancro. Lo sport è un grande veicolo per portare questo messaggio importantissimo e voi mi state aiutando a farlo. Vi ringrazio veramente di cuore. Auguro alla Nazionale di Pallavolo il più grande successo a queste Olimpiadi. Io ti ferò per voi.